Nell'intricata vicenda che vede contrapposti il comune e i familiari delle vittime del crollo di Viale Verdi, ieri pomeriggio è stata segnata una tappa cruciale. Il sindaco Giovanni Gugliotti ha chiamato a raccolta le parti civili per proporre un accordo di transazione che riguarderebbe la liquidazione della sola sorte capitale, circa 9 milioni di euro. È doveroso precisare come si sia trattato di un incontro puramente interlocutorio, orientato a trovare una strada per limitare l'impatto che potrebbe avere il risarcimento totale dei danni, intorno ai 18 milioni e mezzo di euro, al netto della provvisionale già pagata negli anni 90, sulle già precarie casse comunali. Un incontro a porte chiuse, serrate, cui hanno partecipato anche alcuni legali, ma sicuramente non la totalità dei familiari costituiti in giudizio, e il sindaco che ha voluto essere solo, senza assessori, consiglieri e avvocati di parte, proprio per colmare a suo dire quel difetto di comunicazione che si era registrato fino ad oggi con loro e anche con la stampa. Abbiamo approfondito le diverse questioni, abbiamo parlato anche dell'eventuale possibilità di evitare il dissesto, che credo sia per tutti, perché qui alla fine siamo tutti cittadini di Castellanita, credo che sia per tutti qualcosa di positivo riuscire a evitare il dissesto. Su questo ho fatto le mie proposte, ora si sono riuniti, alcuni, non tutti erano presenti, quindi altri li incontreremo nei prossimi giorni, ma la maggior parte erano qui e si stanno confrontando con i loro legali su quelle che sono le proposte che io finora ho potuto formulare. Ma è un primo incontro importante, mi sono preso un po' di tempo perché ho voluto con i miei consulenti approfondire bene tutti gli aspetti della questione, una questione irrisolta da 30 anni, lo dico non per fare valutazioni politiche, ma perché oggettivamente è complessa. Quindi ho avuto un po' di tempo per studiarmi, per confrontarmi con i miei consulenti, credo che siamo arrivati a un buon punto, ora voglio vedere la controparte, come vuole organizzarsi. Gugliotti quindi ha difeso la scelta del silenzio giustificandola con la necessità di studiare a fondo la vicenda prima di arrivare alla formulazione di una proposta economica. Sostanzialmente ho avanzato la proposta di dare a loro la sorte capitale, quello che è stato individuato in sentenza come sorte capitale, quindi più del 50% di quello che poi è l'importo finale individuato in sentenza. La mancata partecipazione di diverse parti civili è sintomo del fatto che la strada della transazione non sarà in discesa, molti legali hanno già consigliato agli assistiti di non presentarsi, anche se Gugliotti ha detto chiaramente che li cercherà nei prossimi giorni. Altri ancora si stanno già organizzando per presentare le loro controproposte, vi sono questioni non affrontate, infatti come i costi della registrazione della sentenza, si parla di 600 mila euro e la soglia minima di adesione alla transazione. Sembra infatti che Gugliotti abbia fatto capire ai familiari che se dovesse aderire meno del 50% di loro non se ne farebbe nulla. Il tema centrale però è quello delle risorse con cui coprire risarcimento. Gugliotti ha solo accennato alle modalità con cui intende reperirle, non ha presentato un piano vero e proprio ma ha parlato di canali di approvvigionamento aperti in regione, ricordando il caso Foggia e della possibilità di istituire una sorta di ipoteca sui beni comunali a fronte di un finanziamento da parte di banche private. Gugliotti ha solo accennato alle modalità con cui ha presentato un'evolta a fronte di 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 un'evolta a fronte. Grazie